Ci arriva questa cartolina, questa nail art. L'artista è Spaulding e ci invia l'email da Lomita, California e il lavoro è What is this artist doing? Vedete un intervento su una gescia perché il lavoro consiste appunto nell'interpretare con i colori e con tutti gli strumenti dei linguaggi dell'arte, tag, scritte, loghi e quant'altro, cosa stia facendo la gescia? Quindi come tutti i lavori legati all'universo della nail art si tratta di un lavoro connesso, riflesso dove gli artisti si riflettono in un macro processo creativo e linguistico dell'arte innescato da uno di loro.